La seconda conferenza internazionale di difensori civici che si svolgerà a Cassino tra qualche giorno vedrà la partecipazione di circa 300 partecipanti registrati. Sono più di 190 le delegazioni provenienti da tutto il mondo con 86 miei colleghi ombudsman e difensori civici che ricoprono questo ruolo a livello nazionale e gli altri sono le delegazioni che accompagnano gli uffici della difesa civica e quest'anno la novità maggiore è quella della partecipazione di 64 studenti universitari che arricchiranno le giornate all'interno della città di Cassino partecipando a delle iniziative, solamente per dirvi una sul giorno 11 di settembre in cui si confronteranno sul tema dei diritti e della cittadinanza attiva. Questi studenti arrivano dall'Uzbekistan, dall'Ucraina, da Malta, Nepal, Pakistan, Moldova, USA, proprio per rendere l'evento a carattere internazionale. Questo fa che piacere perché noi dobbiamo parlare come difesa civica non soltanto a un target di pubblico alto ma soprattutto ai giovani per insegnare loro che esiste questo ufficio completamente gratuito a disposizione dei cittadini che cerca di risolvere le controverse tra il cittadino e la pubblica amministrazione, parlando soprattutto del tema dei diritti. Farla a Cassino ha un significato non soltanto storico e identitario ma anche perché 80 anni fa la dignità venne negata con il bombardamento della distruzione della città di Cassino e di Monte Cassino e il difensore civico cerca di ridare dignità al cittadino e questo quindi il connubio perché tenerla a Cassino, anche come diceva il Sindaco alla fine delle celebrazioni dell'ottantesimo della distruzione di Cassino e Monte Cassino ha inaugurato il capo dello Stato e chiude il difensore civico e questo ci fa enormemente piacere. Poi parte dall'Italia un messaggio che la difesa civica c'è, è presente a livello internazionale, prima la difesa civica italiana era afona, adesso invece è protagonista grazie agli enti, alle istituzioni, alla Regione Lazio che è protagonista sul tema della difesa civica.